Non è un'impresa facile. Chiudere i carrozzoni che negli anni sono diventati veri e propri buchi neri in grado di divorare ingenti quantità di denaro pubblico, come ha ribadito il dettagliato rapporto della Corte dei Conti presentato appena qualche giorno fa, richiederà più tempo del previsto. Nonostante i buoni ma forse fin troppo ingenui propositi del presidente Oliverio, che proprio davanti ai giudici contabili aveva rinnovato il suo intento di voler chiudere o riformare gli enti strumentali della regione. Alcuni dei quali, negli ultimi mesi, sono finiti al centro di scandali e inchieste. Nell'ultima seduta del Consiglio, la riforma degli enti regionali era uno dei punti all'ordine del giorno. L'Assemblea, all'unanimità, votato a favore della legge presentata dal consigliere Franco Sergio, che posticipa l'archiviazione delle partecipate, si inizierà con la SOMESA, il cui bilancio finale di liquidazione dovrà essere presentato entro il 31 marzo. Più fumosi i termini per l'Afor. La vecchia azienda per la forestazione, già soppressa e convogliata in Calabria Verde, verrà liquidata in data da fissarsi entro un anno dall'approvazione della legge, vale a dire entro il 22 dicembre del 2016. Infine, stesso cronoprogramma per Fondazione Field, che verrà dissolta in Calabria Lavoro entro sei mesi, e per i cinque consorzi industriali che verranno accorpati nel Corap. Grazie a tutti.